Quasi 16.000 studenti in meno e questo è il preoccupante dato dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania per l'anno scolastico 2018-2019. Un calo dovuto sicuramente alla crisi delle nascite ma bisogna fare i conti anche con la mancata compensazione dei nuclei familiari composti da immigrati che al nord Italia fanno sì che la flessione non sia così drammatica come al sud. Dei circa 16.000 iscritti in meno, oltre la metà riguarda Napoli e provincia. Dai numeri dell'Ufficio Scolastico Regionale che fanno riferimento a giugno e che saranno aggiornati a gennaio, quest'anno gli alunni delle scuole di ogni ordine grado saranno 879.562 ovvero 15.752 in meno rispetto all'anno scolastico 2017-2018. Una vera e propria emorragia a cui non sembra ci sia soluzione. Se lo si guarda in prospettiva rispetto a tre anni fa la flessione di oltre 41.000 unità, mentre andando ancora più indietro nel tempo è evidente la drammatica perdita poiché si supera abbondannamente quota 60.000. Praticamente in campagna in cinque anni c'è stato uno svuotamento delle scuole pari agli abitanti di Avellino. Tale situazione inevitabilmente finisce per riflettersi in maniera negativa sulla vita socio-economica delle comunità che perdono sempre più giovani. Se la metà di questo calo di iscritti si verifica a Napoli e provincia, in proporzione è allarmante la situazione delle zone interne della regione dove la popolazione residente è nettamente inferiore. Nei centri più piccoli delle province di Avellino e Benevento praticamente si rischia la desertificazione anche a discapito dei docenti meridionali che resteranno sempre al nord.